Maledetta resistenza, che ci fate qui? Siamo una comunità pacifica! Ci sono delle famiglie qui, non potete cacciarci nei guai in questo modo! Calmatevi tutti! Andremo non appena arriveranno gli altri. Non li hanno seguiti, sono sicuro. Ce ne andiamo, ma voi tornate dentro. Non facciamoci notare. Dannazione, Collor! Ti avevo detto di non venire qui! Rischiamo di fare casino a casa di questa gente! Non avevamo altra scelta! Questo posto è pieno di coreari! Dovremmo combattere per questa gente, non usarli come scudo! Che cazzo si nasconde? Ora basta! Entrammi! Devi essere il pilota, sono Boon Carson. Ho fondato questa cellula. L'esercito statunitense si raduna a San Francisco. A loro serve benzina e noi abbiamo un piano. Ci serve il pochino. In casa! Subito! Non fate male al mio bambino! Addio! Mancava solo questo! Adesso le vostre, signora! State a terra, vi proteggeremo! Difendiamo la facciata della casa! Dobbiamo allontanare il fuoco dai civili! Che cosa è fatto a questo? State tranquilla, signora! Fuori! Fuori! Non c'è, non c'è! Anche se la casa! Non c'è, non c'è! 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 Non c'è, non c'è! Non c'è! Che cosa vuoi farlo? Allora, questo è la caso di... beni giặc! Salvat i miei bambini! Stamato il mio bambino! Tranquilla, signora! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!